Abbiamo anche adottato in aggiunta un'altra misura per quanto riguarda le manifestazioni sportive. A questo punto, in questo contesto, non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni, le gare, le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio. Quindi dispiace dirlo, ma tutti anche i tifosi devono prenderne atto e non consentiremo neppure che possano essere utilizzate le palestre per ovviamente lo svolgimento di attività sportive. A questo punto, se c'è qualche domanda, prego.